Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Lo avevo preso su Battle.net e l'ho trovato per il giorno d'oggi, per gli schermi d'oggi, PC d'oggi, il modo di giocare di oggi, improponibile. E quindi l'avevo mollato, l'avevo comprato una decina di euro e l'avevo mollato. Ma guardate un po', guardate che roba. Questa è una remaster, una remake, insomma, che è degno di essere chiamato remake. Guardate la grafica, guardate com'era una volta, guardate com'era il movimento ai tempi, come lo sarebbe giocarlo oggi con la versione non rimasterizzata, non rifatta. E questo è il movimento e le luci, l'illuminazione della nuova versione. Costa 39 su Battle.net, io l'ho trovato a 19, poi magari quando vedrete il video sarà ancora scontato se vorrete provarlo. Come l'ho trovato? Beh, calcolate che in futuro voglio fare un video di comparazione tra questo e Green Dawn, vabbè poi magari anche con Diablo 3, perché hanno delle peculiarità uniche ognuno di questi giochi. Devo dirvi la verità, lo sto trovando intrigantissimo, sia per le missioni che sono molto semplici. Alla fine, a me non sono mai piaciuti i giochi dove combattete, 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 dovete fare magari un minimo anche di gestione. Qua alla fine gestite l'equipaggiamento, gestite l'inventario, gestite la vostra cintura con le pozioni e vi gestite gli incantamenti. La storia, fate tot missioni per ognuno dei cinque capitoli, dei cinque atti e completate la storia, ma la cosa veramente bella è il fatto che vi dà proprio un vero senso di progressione, perché avete le vostre statistiche, avete le vostre abilità che potete andare a sviluppare ed è fondamentale, e qua concludiamo, costruire bene la vostra build. Il gioco è cattivo, è difficile. Come lo erano i giochi una volta? Oggi, il giorno d'oggi, quando un gioco difficile viene detto, è come Dark Souls, quindi è una categoria a parte solo per pochi. Una volta i giochi erano tutti difficili e non vi spiegavano quasi niente. Nel senso che adesso, se voi avete una possibilità di rispeccare le vostre abilità, le vostre statistiche, se lo fate subito, non lo potete più fare in tutto il gioco. Quindi queste abilità qui, queste caratteristiche qui, le potete rispeccare, così come le abilità una volta solo in gioco, ma nessuno ve lo dice, così come anche avete la possibilità di potenziare degli oggetti in un dato modo, ma se lo fate male non lo potete più fare. Questi erano i giochi di una volta, e oggi si usa molto meno questo perché l'utenza si è, diciamo, un po' morbidita. Il gioco, vedete, è difficile perché io sono un necromante e se non riesco a battere subito uno di questi tizi, vedete, ed evocare le mie creature, io sono praticamente morto. Ora, sono fortunato e ho questi. Questa è una classe veramente molto interessante perché, guardate gli altri combattere, in sintesi, e il mondo viene generato a caso, ovviamente sto parlando per chi il gioco non lo conosce, e ogni volta è diverso, vedete, c'è la mappa. Vi faccio vedere ora nuovamente com'è la grafica. Cioè, pensate, io l'avevo preso ma non sono riuscito a giocare. Anche per questa scattosità ai tempi, lo si giocava ai tempi, io ho ancora, possiedo ancora la rivista di giochi per il mio computer dove avevano recensito con un bellissimo 9 questo titolo e guardando gli screen sulle pagine di quella rivista ne ero rimasto meravigliato. Poi io non lo avevo il gioco, non si scaricava in digitale e andavo alle scuole medie, quindi non avevo la possibilità di comprare i giochi quando volevo. Però me ero rimasto affascinato dagli screen, da tante cose. Me lo prestò un compagno ed era su 3 CD. Pensate che il mio hard disk ai tempi del PC aveva 2 giga e il gioco ne occupava uno. Ho dovuto forse limitare le cinematiche e disinstallare tutto quello che avevo come giochi per poterlo provare e ai tempi questa grafica si giocava ed era molto bella da vedere. Sicuramente non su uno schermo di dimensioni 27-24 pollici come il giorno d'oggi, ma si giocava su un 15, quindi era tutto molto diverso. Si va avanti, si progredisce, si potenziano con i castoni, le varie pezze di armatura, ci sono una quantità immonda di oggetti sbloccabili e ovviamente dovete esplorare il mondo. Ogni volta magari potete loggare e esplorare questa zona intorno alla città, che ormai io ho già fatto, ma ogni volta viene rigenerata. Quindi salite di livello, livellate, perché le sfide sono veramente molto, molto toste. Quindi lo consiglio, ho fatto questo video perché io sono sempre stato molto perplesso da questo gioco, la versione è rimasterezzata perché ho detto forse Green Dawn offre più cose. No, sono giochi diversi, vi dico la verità, il gioco mi sta piacendo molto, ma lo sto spolpando pian piano. E se vi piace comunque questa sfida, il fatto comunque di arrivare e dire io ho finito Diablo, che comunque è difficile, ha una difficoltà comunque a salire, beh, ve lo consiglio. Se avete delle domande, delle curiosità, dei dubbi, scrivetemi sotto nel video, io me lo giocherò, magari me lo finirò anche, e poi mi dedicherò anche a Green Dawn e faremo un confronto. Per quanto questo sia molto più bello graficamente di Green Dawn, Green Dawn ha altre caratteristiche che mi piacciono tanto quanto questo. Ovviamente qua non vi ho detto, potete giocarlo con amici, potete tenervi più personaggi, ed è talmente, diciamo, poco articolato a livello di storia, perché alla fine parlate, fate, parlate, fate, andate, svuotate la tomba, luttate gli oggetti, che vi sperona a affrontare l'avventura di vari capitoli con più personaggi, quindi ricominciarvi la storia, non risulta pesante, non risulta noioso, dà soddisfazione, perché ogni classe è tremendamente diversa dalla precedente, e nel vostro forziere potrete tenere gli equipaggiamenti magari da dare ad altre classi, il barbaro piuttosto che l'assassina, il druido, la maga, l'incantatrice, quindi insomma è molto molto interessante. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e ciao ciao, alla prossima! Grazie a tutti!